Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Svolta nell'omicidio di Pierina Paganelli, la rivelazione sciocca a quarto grado. Hanno trovato l'assassino. Gli inquirenti che indagano sull'omicidio di Pierina Paganelli hanno trovato l'assassino? La rivelazione arriva da quarto grado. Lo stesso Gianluigi Nuzzi si dice sorpreso di quanto appena arrivato dai microfoni e dalle telecamere dello studio di quarto grado sull'omicidio di Pierina Paganelli. A sganciare la bomba è il giornalista Carmelo Abbate, che con compostezza dalla sua poltrona fa una rivelazione che coglie di sorpresa anche l'avvocato Davide Barzan che difende Manuela Bianchi. Poi Carmelo Abbate azzera tutto. Penso che ci siamo. Gli inquirenti hanno individuato l'assassino. Non c'è nessun quinto uomo. Lo dico con cognizione di causa. Continua Abbate di fronte all'incredulità di Nuzzi e Barzan. La vicenda verrà chiusa presto e si ritornerà da dove siamo partiti, dal pieno erottolo.